Buondì, oggi costruiremo una catapulta Poco soddisfacente Ma se la facessi in legno? Anna! Andiamo a costruire una catapulta? Anna andiamo a costruire una catapulta? Anna, 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 Anna Non la voglio costruire una catapulta, devo fare dei compagni Anna, 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 Anna È una birra quella? No È quella tua Anna! No! Ora prendiamo tutte le assi Ma vedi? Ma perché lo sfili così? È come lo sfilo Ti spacca la schizia? Sai come non me la potrei spaccare? Sono vano Io ho l'Anna che sta brontolando da quando è arrivata Io non la volevo fare la cacaputta Se mi è sballato completamente le mie regole di vita Sabato e domenica riposo Tienemi su questo o no? Dai vieni qua Dai su qua Tienelo su Tieni Oh troppe cose dai non ce la faccio Non è per te? Si Ah Era da Dio Tieni Questo qua è stato il mio primo martello Raga mi hai dato il martello scaccio Ma Tiena viene Viene da te Viene da te Basta Oh disordine Ciao bambole Adesso vi faccio vedere cosa stiamo facendo io e Davide Stiamo facendo una cacapunta Beh chi non ha una cacapunta in giardino? Fate un saluto YouTube Fate vedere le tette Adesso vi faccio vedere le ocche Niente mi hai sparito Seconda videochiamata Si 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 Ah Ho capito adesso Dove sei Dove sei? Dio A far girarti Dio Fermo 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 Fai così no Fermo no Non lo voglio più Guarda Ci serve il cestino Anna il cestino è l'ultimo Non serve Cioè è la cosa che serve meno Sai cosa lanciamo dopo? Lei Questa È la mia aiutante da qualche ora Anna dai Sì Non ce lo faccio più Davide Immagina è stata una giornata molto impegnativa Si Mettanto il pisolino Il caffè Lui va in morta eh Anna Anna Ma scusa ma mi hai sbagliato tutto Eh? Dov'è la parte lunga? Scusa Ma se Ma se Io non volevo farlo Ci verrebbe un ammortizzatore Anna c'era il giovane Davvero? Si Non troppo non troppo Perché sennò dopo Non c'è più il cuore Non c'è più il cuore Non c'è più il cuore Colpo No Prova Polla Che merda Davide Ok Ce l'abbiamo fatta un poverice Per far stacca Sì Davide ma secondo te No, no! No, mamma mia, dai, le scoppia. Bello, però. Ti giuro, è la cosa più inutile. No, l'abbiamo finito, sei contenta? Anna? No, intendiamo casa. Anna, hai costruito una catapulta. Ma cosa? Ma nel bacio c'è una catapulta? Ci prepariamo l'assalto delle persone. Sai che impazziranno e andranno tutte ad assaltare le case. Dai, però non è male. Qua casa tira. Conquistiamo il mondo, Anna. Eh? Io sono contento, Anna. E anche l'avventura di oggi è finita. E meno male. Spero di avervi intrattenuto abbastanza e... Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Grazie a tutti